Hello guys, RandyRena here e benvenuti in questo nuovo ed entusiasmante video di Minecraft Beh, detto questo, riprendiamo da dove ci eravamo fermati Ho messo a cuocere un po' di roba qui E, ehm, torniamo, torniamo giù Allora, in teoria io in questo tempo in cui, ahia In cui non ho registrato E, ho, sono andato a recuperare il ferro che avevamo lasciato nella, nella fornace qui Come potete vedere non c'è più E adesso andiamo, continuiamo la nostra, la nostra scavata Allora, prendo un po' di torce Perché mi sono reso conto del fatto che giustamente voi se no non vedete un cazzo nel video Quindi via così, facciamo così E, otto, dodici Mh, diciamo così dovrebbero bastare, dai Cioè, quanto sarà grande sta mappa Allora, facciamo la torcia qui Le picconiamo Allora, ehm, ci sono rimasto un po' di merda Perché vi giuro, io non mi aspettavo una cosa del genere in questa mappa Sto, sto coso muore, vorrei capire Cioè, posso ucciderlo? Ah, sì Cosa mi dà? Niente Noo, che cosa brutta Allora lo lasciavo vivo Cioè, se non mi dà nulla Perché ucciderlo? Sono un pacifista io Allora, mi sono fatto due, due ipotesi Una, quella che vi ho detto l'altra volta Cioè, ehm, questo tizio che ha creato la mappa Vuole che, ehm, mi faccia un piccone di diamanti Con il quale spacchi dell'ossidiana E attivi il portale Due, questo tizio vuole che raccolga con del ferro Cioè, con un secchio della lava E faccia dell'ossidiana sul pezzo lì Di cosola, di portale a cui manca Io la vedo della luce Io direi di scendere Scendiamo vecchia maniera Per chi non la conoscesse questa è la vecchia maniera Allora, aspettate Andiamo a prendere quel ferro Che può sempre tornare utile Con questa texture pack Io la prima volta mi ero illuso Che questo ferro fosse una dei diamanti Dannazione Volevo i diamanti I diamanti Che cosa brutta Dai, dai Su Bravo Ok Ah, c'è della lava Ok, aspetta Mi butto Aia 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 Cioè, allora C'è del carbone Torna sempre utile il carbone Dammi Dammi Eh, questo non lo posso prendere Allora Diciamo così C'è della redstone Ma sinceramente la redstone Non ci serve Dobbiamo solamente attivare un portale Quindi Eh Ce ne fottiamo altrimenti il cazzo E Prendiamo solamente un po' di Un po' di questo Questo che cos'è secondo voi Ok Questo ci perdono i diti a farlo Io mi farei un piccone di ferro Un piccone di ferro Mi devo fare una Una Crafting table Allora Facciamo crafting table Poi aspettate che piazza una torcia Così Vedete Perfetto Ci facciamo una picconazza Di ferro E vediamo cos'è questa cosa qua a terra Sperando che non sia merda No Diamante Perfetto 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 Diamante Grandissimo Oh Ecco qua Allora 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 Facciamo il nostro piccolo di diamanti Facciamo così E a questo punto Io tornerei su Perché Adesso vi faccio vedere come facciamo Il Il nostro Stra 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 Fantastico Bellissimo Ed emozionante portale Per il nether Ah c'era della lava Continuava parecchio Devo dire Continuava parecchio Questa 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 guerra Comunque è stata È stata scavata bene Perché si Si capisce Abbastanza velocemente La direzione in cui andare Per Per prendere I materiali che Servono Allora Salta E adesso come minimo Non riuscirò a trovare l'uscita Ma Questo È È ovvio Cioè Non vi stupite se questa mia predizione sia vera Però In teoria dovremmo seguire l'acqua No No Forse no Mi sa che qua è chiuso Quanto odio l'acqua Ah No Ok saliamo Vecchia maniera Facciamo così Questa è Quella di prima era Come scendere Alla vecchia maniera Questo è come salire Alla vecchia maniera Per tutti coloro Che non lo sapessero Perfetto Saliamo ancora di più Mi sa che anche il creatore Ha fatto questa 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 salita C'era proprio il blocco Fatto apposta E Oh Zombie È bellissimo lo zombie Questa Con questa Con questa skin Comunque mi avete chiesto un po' di Un po' di varietà Eh sì Nei video E Ho cercato di proporvela Per come possibile Però Mettetevi anche Nei miei panni Io Sto facendo una serie Su minecraft Questa qui Di puzzle pyramid E ovviamente Oltre A giocarla A avere Il piacere di Proporvela Ho anche il piacere Di portarla a termine Perché Penso di averlo detto Più e più volte Ma io questa mappa Non l'ho mai giocata Quindi Potete capire Che Voglio anche Vedere io Come va a finire Questa Questa situazione Quanto Quanto devo salire Voglio sapere io Perché Allora Mi dovrei fare Una pala Ma non mi va Ok Perfetto Abbiamo fatto Fortunatamente A giorno Allora Piccole di diamanti Qua c'era La nostra Bella fornace La nostra Crafting table Ma a noi Non interessa Ci ha portato In questo enorme Gigantesco Coso Ma come potete vedere Questa è Ossidiana Allora Questo blocco Di ossidiana Qui Non serve Perché Negli angoli Non Non serve Per attivare Il portale Quindi noi Facciamo Così E ce lo Prendiamo E poi Facciamo così E ce lo Prendiamo E dai Sei anni Per scavare L'ossidiana La odio Ok Quindi facciamo Così Fermi un attimo Adesso Che ci penso Però ci manca Il flint Perché Dobbiamo Accenderlo Allora Allora Serve Della gravel Direi Facciamoci Una bella Una bellissima Pala Perché a questo punto Pala Di ferro Ma sì Via Ok Perfetto Allora Prima di scavare qui Finché non troviamo Della flint Scendiamo in caverna Facciamo prima Mi scoccio di scavare Così tanto L'avevo vista Da qualche parte Qua in caverna La flint Eccola C'è la Gravel 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 Creeper che esplodono Aia Aia Perché sono sceso Qui in caverna Ditemelo Qual è Qual è il motivo Corri Corri Madonna Muoio 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 Se muoio Sono cazzi amari Sono cazzi Amarissimi No No Zitti Ce l'ho fatta Se Se Ho vinto Se Eh Però dobbiamo trovare Comunque la Gravel Vabbè C'è così Intanto scavo Un po' Così a mozzo E se no Non ne usciamo più Allora Dove posso trovare Della Gravel Ragazzi Ditemi dove Renna Hai della Gravel Lì Lì E lì Così la vado a prendere E finiamo subito Questo gameplay Perché questa vita Ci perde sei anni A ricaricarsi Non posso neanche mangiare Era bello una volta Quando Più facile Sicuramente Però era bello Quando una volta Su Minecraft Avevi la tua vita Mangiavi Il Pezzo di carne E la vita saliva Adesso devi far salire la carne E poi Sale la vita Tutto ciò non ha senso Almeno secondo me Oh Oh ma che Quanti ce ne stanno Eh Eh basta 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 Ah c'è un creepy Ciao creepy I creepy Mi stanno simpatici Non so voi Ma a me stanno molto simpatici Mamma mia Ma Mamma mia Mamma Mamma mia Guardate Quanta vita Sono rimasto Vai via 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 Renna Renna Vai via Allora A questo punto Io direi Possiamo fare un'altra cosa Gravel Andiamo qui Andiamo finchè non ci esce un po' di cose Flint Grande Grande Allora Qui Poi prendiamo il nostro Ok Il nostro ferro Abbiamo fatto l'accendino E a questo punto Direi Di Appicciare Il nostro bellissimo Portalino per il Nether Scusate ma sono un po' Sono un po' Raffreddato Allora A questo punto Io direi Ci prendiamo qua Tutta la nostra bellissima roba Così Ehm Sì Andiamo a farci un'altra spada Perché Ho 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 Direi E Ho Paura che Una volta andati nel Nether Mi trovo qualche bella sorpresina Tipo Che sono senza Pita Ehm Non sarebbe bello Proprio per niente Quindi ci facciamo Eh Bella La spadina di ferro E cerchiamo di sopravvivere Ci produttiamo anche un po' di cibo Semmai lo cuociamo Taglio il video Semmai quando lo cuocio Così Risparmiamo minuti preziosi Vi faccio vedere un video Più lungo È fichissimo Metti il kart Che ce n'erano Che ce n'erano anche qua Ma io ce l'avevo già Perché giustamente sono un figo Ah L'altra volta Maffanculo Tutta la mia roba Vabbè Lasciamo stare Non ci arrabbiamo Buttiamo tutta Tutti i miei item Qua dentro E Oh Ehm Io questi diamanti Me li lascio Non fanno Cioè Non li uso Vi prometto che non li uso Ma Oh 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 Dio Ma Ti pare normale Che prende fuoco Ti pare normale Dico io Anche il cibo Giusto Via Ok Perfetto Pig zombie Pig zombie Pig zombie Eh Dov'è il kart Scusami Ah Devo prendere quello di prima Mannaggia a te Mannaggia Me lo potevi dire Però non è Portati il kart Almeno Forse c'era scritto Ah si c'era scritto Devo prendere il tuo kart Ok Sono un idiota Scusa Oh Ate Vi giuro Non l'avevo visto Taglio il ritorno Eccoci tornati Nuovamente qui Nel nether E Ragazzi Sono morto Che ci posso fare Non avevo visto Che c'era un buco Sì sinceramente Oh il mio pc Che non ha Eh no però Vabbè me lo faccio a piedi Mi porto il kart Via Dammi il kart Grazie Me lo faccio a piedi Sto pig zombie Se no ci perdiamo Sei anni Intanto non si toglierà mai Da lì E alla fine La vedo La vedo da qui Mi stanca Mi si stanca il pg Quindi Vabbè Fa niente Corro lo stesso Zompetto anche Via Mi prendo la mia La mia ciccia Fa niente Ah qui c'è Ah ma allora Non era rotto E' quel dannato coso Che fa Rompere la roba Il ghast Dannato ghast Sono morto A causa tua E' questo Che mi stai dicendo Oh Lava Muoviamoci Dai che veramente Non la sopporto più Sto pezzo Ogni volta che vado Nel nether Divento nervoso Perché Proprio un posto Che non mi piace Sinceramente Non ci posso fare niente Non mi piace Non mi piace Non mi piace A noi Non piace il nether Ok L'ho detto L'ho detto L'ho detto Un portale Che bello Ce ne andiamo Ciao Ciao Ok Caricamento Spero che non si blocchi Il video durante i caricamenti Vediamo Vediamo Puzzle set Ok Perfetto Inizia il puzzle set Quello serio Quello era Se lo warm up Io mi ero dimenticato Bene ragazzi Puzzle set Lo vediamo Nella prossima puntata Dai che E' già venuta lunga Questa qui Quindi Vi saluto Vi ricordo di lasciare un mi piace Un commentino Di condividere il video E alla prossima Enjoy E che la renna sia con voi E che la renna sia con voi E che le ringe Grazie a tutti.